Grazie Presidente, grazie Ministro, grazie Sottosegretario per l'informativa puntuale e precisa. Questo è il mio primo intervento in aula e mai mi sarei immaginato e mai mi sarei augurato di doverlo fare cominciando con le condoglianze a una famiglia che ha perso un bambino di 21 giorni, dei ragazzi morti e per questo esprimo chiaramente a nome del gruppo lega le condoglianze alle famiglie delle vittime e solidarietà e vicinanza alle famiglie e alle popolazioni di Ischia. La cosa che sto notando in questo periodo, come diceva giustamente Ministro prima, lei ha usato un termine, entro subito nel merito, sento parlare, leggo sui giornali che si parla molto di due cose che sicuramente sono con cause, non so se sono le cause, parlo del cambiamento climatico e dell'abusivismo edilizio per motivi che di qui a breve andrò a spiegare. Mi piace soffermarmi su una cosa perché sta passando l'isola di Ischia come un'isola dove esistono tanti abusi, molti di più rispetto al resto d'Italia. 25.000, 24.000 richieste di sanatoria su 60.000 ischitani, ricordo prima di tutto a me stesso che in Italia sono state presentate 15 milioni di richieste di sanatoria su 60 milioni di italiani. Andiamo a vedere la proporzione la stessa, la dico giusto per dare la dignità al popolo ischitano che in questo momento sta passando per volontà di qualcuno come un popolo di abusivi e questo credo sia una mancanza di rispetto. Perché dico questo? Perché diceva prima il senatore Renzi che la storia, la storia e il passato è importante, sì è importante. Ischia ha avuto come alluvioni 1557, 1662, 1762, 1767, 1796, 1827, 1841 e 1863. In quei periodi provocando dei grossi danni non c'erano né cambiamenti climatici né abusivismo edilizio che è un problema, va affrontato ma in altra sede e non in un momento che un posto ha avuto una tragedia. Nel 1883 Benedetto Croce ha perso gran parte della famiglia a Ischia per un terremoto che è durato 10 secondi. Nel 1910 ad Ischia c'è stata un'alluvione